Uno, go! Brava! Brava! Non c'è niente, c'è niente, c'è niente. Brava! Non c'è niente, gentili. Brava! Ma brava! Almeno non arriva nel bicchiere. Io sono Chiara che hanno finito il corso della barbara nel più circa un mese. Adesso mi sto cimentando in operazione. E' un po' la voce, Chiara. Non è vero. No, in realtà è che mi sto presentando una semplice ricerca. Con una base di out-of-the-book, con la calma drella. E sarà molto semplice, molto breve. Spero di non fare errori e per favore. Se voi risultate... Brava! 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 Grazie. 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 Grazie.